Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi, video domenicale, analisi post race del Gran Premio di Germania, Saxe Ring Stiamo parlando veramente di un circuito molto tecnico, molto particolare Quindi la gara è stata veramente spettacolare Abbiamo veramente tante cose di cui discutere Ma innanzitutto le premesse, perché questo weekend è veramente un weekend particolarissimo A Saxe Ring molto importanti, un po' come in Francia, le condizioni meteo Che possono variare da un momento all'altro Grandissima incognita di questo weekend E in questo weekend dobbiamo assolutamente stare qui ad ammirare la grandissima lotta mondiale di quest'anno Fabio Quartararo che cerca ancora una volta di superare un ennesimo esame di maturità Occhio però dietro perché abbiamo Zarco e Bagnaia, i diretti avversari in questa lotta mondiale Che sono sicuramente pronti per dire la loro Occhio anche a Jack Miller, ovviamente Vignales, compagno di Quartararo E anche lui in lotta deve assolutamente riprendersi Mirko, la Suzuki deve sempre essere lì pronto per sperare in qualsiasi colpo Per poter dire la sua Ma questo circuito è sicuramente il circuito di Mark Marquez Ho ben 10 vittorie consecutive per Mark Marquez su questo circuito E quindi lui è il re del Sassering Ed è stato un po' acclamato in conferenza stampa Mark Marquez Perché ha detto di tutti E questo Gran Premio poteva rappresentare il ritorno per il campione spagnolo Tutti hanno detto Mark Marquez sicuramente sarà una grande spina nel fianco E quindi abbiamo veramente una lotta mondiale apertissima Abbiamo Mark Marquez pronto a dire la sua in questo circuito Abbiamo le condizioni meteo che sono sempre pronte per sparigliare le carte E allora ragazzi partiamo con questa analisi post race FP1 ed è proprio Mark Marquez a strappare il miglior tempo Con Fabio Quartararo secondo Terzo Nakagami per quanto riguarda gli altri Sesto Miller, settimo Rins, ottavo Zarco, nono Mir Decimo Maverick Vignales, undicesimo Pecco Bagnaia Quattordici Morbidelli, ventesimo Valentino Russi FP2 che vanno all'insegna di Michele Oliveira con la sua KTM Secondo sempre Quartararo Terzo Vignales, quarto Rins, ottavo Zarco, nono Miller Decimo Morbidelli, dodicesimo Mark Marquez Ventunesimo Valentino Russi Ultimo, ventiduesimo Pecco Bagnaia FP3 con Quartararo capace di strappare il miglior tempo Secondo Miller, terzo Zarco Ottavo Pecco Bagnaia, nono Mark Marquez Undicesimo Mir, dodicesimo Morbidelli Tredicesimo Vignales, quattordicesimo Rins Sedicesimo Valentino Russi, FP4 che vanno verso la Ducati Pramac di Zarco Secondo Quartararo, terzo Oliveira Quarto Miller, quinto Marquez, nono Mir, decimo Morbidelli Dodicesimo Vignales, quattordicesimo Russi Quindicesimo Rins, ventunesimo Pecco Bagnaia Cosa possiamo capire da queste prove libere È che sicuramente Quartararo sembrerebbe essere il pilota da battere Veramente velocissimo in tutte le sessioni di prove libere Sempre nella top 3 Quindi veramente Quartararo Sembra essere il pilota più in palla Occhio a Mark Marquez Perché questi risultati veramente dimostrano il grande talento di questo pilota E la sua grande affinità con questo circuito Quindi Mark Marquez è sicuramente anche lui Uno dei protagonisti di questo weekend Male, malissimo Pecco Bagnaia veramente in grandissima difficoltà E quindi la lotta mondiale per Bagnaia si complica un pochettino Perché sembrerebbe essere un weekend di assoluta difesa Per il pilota italiano della Ducati Invece Zarco sembrerebbe essere il pilota della Ducati Più in palla, più in forma Occhio a Zarco perché sembrerebbe essere pronto Per un weekend d'attacco Per provare ad essere lui il diretto adversario di Quartararo Per quanto riguarda la Yamaha Petronas Continuano i problemi, continuano le difficoltà per Morbidelli e Valentino Rossi E Vignales anche lui riesce nel giro secco ad essere molto competitivo Ma nel passo gara è veramente molto molto in difficoltà E cosa succede? Che nel Q1 del sabato abbiamo veramente una lista di piloti eliminati Che è veramente di tutto rispetto Clamorosa la ventunesima posizione finale di Maverick Vignales Un pilota sempre, sempre in difficoltà Che non è stato per nulla capace nel sabato del Q1 Di strappare una prestazione degna di nota Malissimo anche Morbidelli Incapace di fare più del diciottesimo posizione Della diciottesima posizione Malissimo anche Mir a sorpresa Veramente malissimo Dicestesima piazza per lui nella qualifica finale Addirittura la seconda migliore Yamaha in questo circus E Valentino Rossi con la sedicesima posizione Valentino Rossi davanti a Morbidelli Davanti a Maverick Vignales Ma anche lui ovviamente in grandissima difficoltà Quindi veramente quattro piloti super Quattro piloti top Che però vengono eliminati nel Q1 Ed è veramente clamoroso tutto ciò Q2 e quindi la qualifica del sabato Grande, grandissima pole position Per Zarco Veramente strepitoso Stravolge così i pronostici Perché sembrava essere un pilota sicuramente al suo agio Ma addirittura la pole position Grandissimo il pilota francese Davanti proprio a Quartararo Quindi grandissima prima fila A completare la prima fila però Un grande ritorno L'Aprilia di Alexis Spargaro Fantastica anche lui La sua qualifica E specialmente questo ragazzo nel giro secco Dimostra di essere un pilota favoloso Quarto Miller Quinto Mark Marquez Che è stato a lunga in testa In queste qualifiche Sesto Michele Oliveira Settimo Jorge Martin Ed è un ottimo ritorno per Jorge Martin Finalmente al 100% Ottavo Pole Spargaro Il compagno di Mark Marquez Che limita anche lui i danni Nono Nakagami Quindi molto bene la Honda in generale Decimo Pecco Bagnaia Undicesimo Rins Dodicesimo Alex Marquez Quindi veramente Grandi, grandissime emozioni Durante queste qualifiche Ma adesso partiamo con l'analisi della domenica Col warm up Quartararo Che strappa il miglior tempo Secondo Pole Spargaro Terzo Nakagami Tutti vicinissimi Neanche un decimo Fra questi tre piloti Da segnalare Una bruttissima caduta Per fortuna Senza danni per il pilota E quindi senza conseguenze Anche per la sua gara Alex Spargaro Quindi con la sua aprile Ha veramente un botto terrificante Durante il warm up Ma adesso partiamo Con il pezzo forte Di questa analisi post race Partiamo ovviamente Dalla gara E dalla partenza Veramente incredibile A fionda Di Alex Spargaro Fantastico la sua aprile Super partenza di Alex Spargaro Secondo Mark Marquez Terzo Il Polman Zarco Sorpreso da questo ovvio Ma sembrerebbero essere proprio Alex Spargaro e Marquez Quelli nel primo giro Nei primi giri Ad avercene più di tutti quanti gli altri Miller Ottimo la sua partenza Riesce a mettersi davanti A Fabio Quartararo Che parte invece Maluccio Perde alcune posizioni Il migliore italiano Dopo un giro Dall'inizio della gara E Petrucci E anche lui Ottimo la sua partenza In tredicesima però Posizione Quindi in difficoltà Tutti gli italiani in generale Perché Pecco Bagnaia Parte veramente malissimo Giro 2 E Mark Marquez Time E il momento di Mark Marquez Che va subito A attaccare Alex Spargaro Sembrerebbe essere Il pilota più a suo agio In questo circuito Veramente Mark Marquez Conosce il Sunseering Come le sue tasche Grandissima affinità Dal campione spagnolo Su questo circuito Grande sorpasso Si mette davanti All'aprile di Spargaro Da segnalare Al giro 2 L'ultima posizione E la penultima Posizione Di Vignales E Morbidelli Rispettivamente parlando Quindi veramente In grandissima Grandissima difficoltà Questi due ragazzi Veramente Che sembrerebbero Non vedere nessuna luce In fondo Al loro tunnel Di difficoltà Giro 6 Ed è il momento Di Michele Oliveira Che dalla stessa posizione Comincia a superare I suoi diretti avversari Supera Quartararo E quindi raggiunge La quinta piazza Da segnalare Due cadute Nello stesso giro Prima Quella di Danilo Petrucci Poi Quella di Lorenzo Salvadori Giro 10 Ed è una svolta Secondo me Della gara Perché comincia a piovere Comincia a piovere Anche in maniera Molto insistente Bandiera bianca Sul circuito I box cominciano A preparare La seconda moto Quindi a dimostrazione Del fatto che la gara Comincia a diventare bagnata Ed è qui Che Mark Marquez Secondo me Fa la differenza Comincia a fare Il fuoriclasse Perché comincia A rischiare Dove nessun altro pilota Comincia Comincia a rischiare Dove nessun altro pilota Ha il coraggio di farlo Quindi veramente È fantastico Mark Marquez Che comincia ad allungare Sui diretti avversari Miller Che comincia a superare Anche lui Supera Alecce Spargarò In palese difficoltà Con la sua aprile Da segnalare Intanto un giro record All'improvviso Dal nulla Di Valentino Rossi Che almeno nei primi giri È a livello Come velocità Come tempistica Dei piloti davanti Quindi veramente Anche per lui Potrebbe essere L'inizio di un ottimo weekend Che poi vedremo alla fine Non sarà invece Oliveira Passa anche Lui Alecce Spargarò In difficoltà Zarco Il pullman È in quinta piazza Super Mark Marquez Che comincia Come ho detto prima Ad allungare Ben due secondi Due secondi e cinque Di vantaggio Sul secondo Quartararo Quinto Superazzarco Che diventa sesto Binder settimo Ottavo Mir Nono Martin Decimo Paul Spargarò A completare Completare la top ten Campione del mondo Campione del mondo In ottava posizione Veramente in grandi difficoltà Ma autore Di una super gara Perché Mir È partito Dicesettesimo È ottavo In questo momento Al giro 21 Giro 24 Binder Binder Che dalla sesta posizione Passa Alecce Spargarò Quinto Alecce Spargarò È quinto Ma è in grandissima difficoltà Non riesce a reggere il ritmo Dei piloti davanti Valentino Rossi Il migliore Degli italiani Dopo Pecco Bagnaia Nono Quattordicesimo Non riesce appunto A scrollarsi da questa posizione È stato un fuoco di paglia Il suo grande inizio Ma poi dopo Non è riuscito appunto A colmare il gap E riuscire a prendere il treno Dei piloti della top ten Giro 26 Pecco Bagnaia Comincia a rimontare Passa prima Mir Passa poi dopo Zarco Binder A un certo punto Riesce a mettersi Davanti all'altro Pilota della Ducati Jack Miller Oliveira Che cerca di colmare il gap Con Marquez A un secondo solamente Mark Marquez Nel giro 26 Autore di un lungo Che ha dato qualche possibilità Ha dato ossigeno Al pilota fantastico Portoghese Della KTM Al giro 30 Bagnaia Riesce a rimontare ancora Passa Alecce Spargarò In difficoltà Passa Jack Miller E quindi veramente Fantastico Pecco Bagnaia Che riesce a limitare All'ultimo Negli ultimi giri I danni Giro 30 L'abbiamo detto È il giro finale Ed è il giro d'onore Il giro fantastico Finale Per Mark Marquez Mark Marquez Vince Ancora una volta Il gran premio Del Saxe Ring Fantastico Io avevo detto Che Mark Marquez Nel video Della analisi Dello zoom Su Mark Marquez Che lui non sarebbe Stato capace Probabilmente Di vincere una gara Mi sono sbagliato Anche se le condizioni Oggi Piove Non piove Riprende Poi dopo a piovere Piove insistentemente Poi dopo si ferma Sicuramente queste condizioni Hanno sicuramente Fatto la differenza Fantastico Mark Marquez Che quindi Vince Torna a vincere E lo fa Ancora una volta Al Saxe Ring Fantastico Mark Marquez Secondo Michel Oliveira Terzo Quarto Raro Che riesce All'ultimo A limitare i danni Quarto Binder Fantastica La prova Della sua KTM Quinto Bagnaia Sesto Miller Settimo Alecce Spargarò Ottavo Zarco Nono Mir Decimo Pule Spargarò Undicesimo Rins Dodicesimo Jorge Martini Peccato Perché Aveva fatto Un'ottima qualifica Sub Come evidentemente Non è ancora Al 100% Tredicesimo Nakagami Quattordicesimo Valentino Rossi Che dove i primi giri Pensava Pensavamo tutti Potesse fare Tutta altra gara Perché era Il livello Dei piloti di testa Ma invece Rimane Quattordicesimo Quindicesimo Marini Sedicesimo Bassianini Dicestesimo Leguona Diciottesimo Morbidelli Penultimo Dicendovesimo Vignales Ultimo Quindi Rossi Davanti Ai piloti Degli altri colleghi Della Yamaha Quindi veramente Terrificante La gara di Morbidelli Terrificante La gara Di Maverick Vignales Out Salvadori Out Petrucci Out Alex Marquez 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 Che continua A non Concludere I suoi Gran Premio Quindi veramente In grande Difficoltà Il fratellino Dell'autore Del Miracolo Perché è tornato a vincere Mark Marquez Adesso giro gli appunti Perché ci sono veramente Dei dati Molto molto Interessanti Da andare a leggere Perché Mark Marquez Si conferma Il re di questo Circuito Ma torna a vincere Dopo 581 giorni Veramente Un'agonia Un anno e mezzo Che non vinceva Mark Marquez 57esima vittoria In top class Veramente Fantastico L'abbiamo visto Nelle immagini Scoppia a piangere Il suo box Scoppia a piangere Lui a fine gara Si inginocchia Quasi come se Dovesse ringraziare Qualcuno Dall'alto Che l'ha Supportato E aiutato Sicuramente Questo è La fine Di un calvario Che sembrava Lunghissimo Per Mark Marquez Ci voleva Questa vittoria Per il campione Spagnolo Sicuramente Mark Marquez In condizioni Normali Non sarebbe stato Capace di vincere Questa gara Ma in queste condizioni Con il meteo Pazzo Veramente Questo ragazzo Dimostra di avere Un manico Fantastico Veramente Un pilota Senza senso In queste condizioni E l'abbiamo visto Quando è stato il momento Della bandiera bianca Mark Marquez Ha stracciato Ha avuto il coraggio Dove tutti Quanti gli altri Invece Hanno usato La prudenza Quindi veramente Fantastico Mark Marquez I numeri Ottava vittoria Consecutiva Su questo circuito Raggiunge Quasi Quasi raggiunge Agostini Perché Agostini Lui Tiene il record Di vittorie Su un singolo circuito Agostini Ha 9 vittorie A Inatra 8 vittorie Invece A Spa Franco Champ Quindi veramente Manca una vittoria A Mark Marquez Per raggiungere Il grande Agostini Ma Considerando Tutte le categorie Mark Marquez Undicesima Vittoria Consecutiva Su questa pista Ormai Questa non è più Il Saxe Ring Questo è il GP Di Mark Marquez Veramente Fantastico Il pluricampione Spagnolo Ripeto In condizioni Avrebbe potuto Giocarsi il podio Come abbiamo visto Anche nelle prove Libere E tutti portavano Mark Marquez Capace di lottare Per il podio Ma in queste condizioni Con la Meteo A verso Pioggia che Arriva sul circuito Veramente Mark Marquez È dimostrato Veramente Un fuoriclasse Per quanto riguarda La classifica Piloti Limita I danni Sicuramente Quarta Raro Che rimane Primo Rimane Leader Con 131 Punti Zarco Secondo Con 109 Punti Miller Terzo A 100 Punti Bagnaia Quarto 99 Punti Mir Quinto A 85 Punti E mi fermo Qui Non considero Più Maverick Vignales Tra i piloti In lotta Per poter vincere Questo mondiale Quindi mi fermo A Mir Anche se Mir oggi È dovuto Veramente Faticare Tantissimo Piccola curiosità Mark Marquez A 41 Punti Meno 90 Da Quarta Raro Qualcuno Già pronosticato Un Mark Marquez Che potrebbe Clamosamente Rientrare in lotta Per vincere Per vincere Questo mondiale Io ragazzi Vi invito Alla calma Perché Mark Marquez Oggi ha vinto Ma ha vinto In condizioni Particolarissime Rivedrete Il Mark Marquez Un pochettino Più in difficoltà Nelle prossime gare Sicuramente Questo a livello Mentale Avrà fatto Tantissimo Tantissimo Ma rivedrete Un Mark Marquez Che nelle prossime gare Tornerà A duellare Al massimo Per il podio Perché Oggi ha vinto Ma le condizioni Erano veramente Particolari Quindi bravissimo Mark Marquez Ovviamente Avremo modo Per parlarne Durante La prossima settimana Infine Ovviamente Il solito finale Di questo video La chiosa finale Moto2 E Moto3 Per quanto riguarda La Moto2 Fantastica L'ennesima Vittoria Di un super Super Gardner Grandissima vittoria Secondo Canet Terzo Bezzecchi Dove è finito Fernandez Che era sempre finito Sul podio Alle spalle di Gardner Beh Fernandez Oggi out Per quanto riguarda La classifica piloti Gardner primo Con 164 Secondo Fernandez 128 Recupera qualcosina Bezzecchi Proprio sulla seconda piazza Con 117 punti Bezzecchi ovviamente Terzo posto Nella classifica ridata Migliore Degli italiani Moto3 Torna a vincere Torna a vincere Torna a vincere il fuori classe Torna a vincere il rookie Dei record Torna a vincere il fantastico 16enne Acosta Vittoria per Acosta Secondo Toba Terzo Foggia Per quanto riguarda La classifica piloti Ovviamente Stradominio Per quanto riguarda Acosta 4 vittorie su 8 In questo inizio di mondiale 145 punti Secondo Garcia Con 90 punti Ha concluso Settimo Questa gara Terzo Masià Che invece È rimasto Out In questo weekend 72 punti Primo degli italiani Antonelli Che è finito Sesto Questo weekend 65 punti Ma ragazzi Ovviamente Moto2 e Moto3 Sembrerebbe scontato dirlo Ma sono due campionati Che probabilmente Sono già finiti Acosta Si conferma Il fenomeno assoluto Di questa categoria Ovviamente Troppo grande Il divario Va verso la vittoria Del titolo Anche se siamo solamente All'ottava gara Gardner Va anche lui Ovviamente Va verso la vittoria Del titolo Di mondiale In Moto2 Deve veramente Succedere il patatrack Deve veramente Succedere la follia Perché questi due campionati Si riaprono Invece È molto più aperto Il discorso In MotoGP Ragazzi Settimana prossima Rimanete sintonizzati Su questo canale Perché parleremo Di una notizia Che colpevolmente Non ho parlato Prima di questa analisi Post race Perché abbiamo avuto L'ufficialità Gresini team Che si unisce Con la Ducati Quindi Ducati che aumenta Il suo parco piloti Ben 8 Piloti L'anno prossimo Saranno Di matrice Ducati Quindi più 2 In casa Ducati Occhio perché In questa settimana E ne parleremo sicuramente Potrebbe arrivare L'ufficialità Anche per la VR46 Con un quesito Un quesito Veramente Che pongo anche a voi Valentino Rossi L'anno prossimo Sarà un pilota Ducati Sarà un pilota Della VR46 Ovviamente ne parleremo Settimana prossima Nel prossimo video Ragazzi Io vi saluto Vi invito a mettere like Se questo video è piaciuto Io vi invito ad iscrivervi A questo canale Per non perdere Gli aggiornamenti futuri E ne abbiamo parlato C'è veramente tanto Di cui discutere Ragazzi Io vi saluto Ciao a tutti Da Domenica Versa Ciao a tutti raga Ciao a tutti